scoperto che è secco e ci ho messo un po' a levarlo però non ci interessa quindi passiamo allora peschiamo un po è diverso dall'altro questo è verde questo qui invece ci sono cioè il rosso il verde rosso e blu ma ragazzi è bellissimo e questo è proprio elegante questo è elegantissimo sì non metterlo dai non ti sta male è da un sacco che non mi metto il cerchietto io se mi faccio tipo la fuda mi metto più su ok non si vede si vede si è molto ok ma questo è proprio elegante c'è guardate c'è il bianco il blu il rosso l'oro il verde altro ragazza promettano questo avvis a me sta bene tutto tutto bene perché finisce bene ok ora tocca a me a pesca vai prendo questo è un mio quaderno che ci ha regalato a scuola ma Ari ha finito la scuola ormai è passato il 6 giugno 2024 lo so solo che è un vecchio quaderno l'ho ricevuto nel 2023 un anno fa si qua c'è un segreto che adesso ve lo leggo non è proprio un segreto allora